Sono voluti più di due anni di cattivi odori per rendere concreto lo spostamento dell'impianto di trattamento meccanico biologico Ama di via Salaria, ma alla fine l'epilogo sembra essere alle porte. Sembra appunto. Un mese fa Ignazio Marino fece intendere che presto sarebbe avvenuta la tanto attesa di localizzazione perché nei piani della sua amministrazione c'è la volontà di realizzare a Roma impianti moderni per il trattamento e la stabilizzazione di rifiuti organici. Una svolta importante per la capitale che dirotterebbe il trattamento dei rifiuti verso una tecnologia di biodigestione. Il numero uno dell'aula Giulio Cesare non ha parlato di tempistiche precise ma ha affermato di essere consapevole della degradante situazione in cui versano i quartieri di Villa Spada e Fidene di rimpettai della struttura della municipalizzata di via Salaria. Istituzioni del terzo municipio e residenti restano però vigili e per oggi è stata convocata un'assemblea straordinaria. Troppe le promesse non mantenute negli ultimi anni. Inoltre a destare l'attenzione dei comitati è l'annuncio di riconversione dell'impianto e non di chiusura da parte dell'assessore all'ambiente Estella Marino. Inevitabile dunque la confusione che si è generata e il dibattito è sempre più acceso. Qui inizia una ulteriore nuova battaglia che va fatta perché è ovvio che Ama riconvertirà in qualche modo la struttura che è di sua proprietà. Noi abbiamo un obiettivo molto chiaro che venga riconvertito a quello che era l'origine quindi un parcheggio per gli automezzi, l'officina insomma degli automezzi meccanici dell'Ama e nulla invece che possa dare ulteriore fastidio ai cittadini che risiedono e ai lavoratori che sono su via salaria. Quindi su questo è molto chiaro però dobbiamo anche dirlo ai cittadini che è una battaglia che partirà nel momento in cui chiuderà l'impianto quando sarà a quel punto la regione che dovrà decidere insieme con l'azienda come riconvertire quell'impianto e noi saremo in prima linea ovviamente per difendere il territorio come abbiamo fatto in questi anni. Quando ho fatto il presidente del municipio cioè fino a nove mesi fa ne ho sentite di tutti i tipi anche dall'amministrazione a me vicina con la centrale Comune di Roma. Io ho capito l'ho capito ormai circa un anno e mezzo fa su questa vicenda ho cominciato a prendere le posizioni molto nette sono le carte che lo dicono non il politico di turno e io pretendo che quelle prese di posizioni continuano ad essere portate avanti. Non è che non mi fido dell'attuale amministrazione mi fido dei fatti siccome ad oggi la situazione è ancora questa oggi stesso c'è una puzza incredibile causata da questo impianto bene io voglio delle certezze. Per noi l'obiettivo finale che ci chiedevamo dall'inizio non lo vediamo nell'immediatezza purtroppo i tempi comunque ci dicono che andrà un po' più in là e non è detto che raggiungiamo come si dice alla romana tutto il cucuzzaro bensì si prenderà una parte cioè il TMB probabilmente entro il 2015 verrà sicuramente fermato e chiuso però verrà al timore di una riconversione resta presente diciamo in noi cittadini. Per noi la delocalizzazione di tutto l'impianto sarebbe stato l'optimus. Il caso è seguito con estrema attenzione dall'Unione Europea. La Commissione potrebbe aprire un'ennesima procedura di infrazione nei confronti dell'Italia sull'impianto Ama di via Salaria tenendo conto che si trova nel pieno di un centro urbano. Dalle parole dunque si deve in breve tempo passare ai fatti. Per adesso sono soltanto parole quindi non c'è ancora una strategia chiara non c'è ancora una tempistica definita e i cittadini sono ancora a confrontarsi giornalmente con questo problema quindi stiamo ancora attendendo e sarà mia cura fare un'ulteriore sollecitazione alla Commissione Europea. Stiamo ancora attendendo dicevo un chiaro pronunciamento da parte del commissario competente che però era intervenuto in più occasioni proprio per chiedere al governo italiano per chiedere allo Stato italiano di fare delle verifiche, delle verifiche accurate e accogliendo quindi di fatto il grido d'allarme che veniva dal territorio. Ecco ci sono varie ipotesi in campo come in passato del resto tra delocalizzazione e riconversione dell'impianto. Indubbiamente l'impianto è un impianto che diciamo è anche un impianto buono il problema è la collocazione, la collocazione che è sbagliata quindi o questo impianto viene delocalizzato che forse è la cosa migliore oppure comunque trasformato. Il problema è che così com'è però diciamo ha un impatto troppo pesante sulla cittadinanza e sul territorio.